Alla giornata, benvenuti in questo nuovissimo video reaction all'ultimo video di Dream Vi ricordo subitissimo che oggi è uscito il mio nuovo libro fumetto Quindi dateci un'occhiata, avete il link in descrizione Fatemi anche sapere cosa ne pensate se casomai lo acquistate Fate una storia o un post su Instagram E taggatemi, questo qui è il mio profilo di Instagram Scrivetemi di tutti quanti, mi raccomando Lasciate come sempre un mega mi piace e un commentone qua sotto E soprattutto iscrivetevi perché c'è appunto il nuovo evento degli Snow Golem Dove chi si va a iscrivervi su tutti i miei social come appunto questo canale YouTube O il canale DM, Emerald Uncut, Emerald Eclipse O il mio canale sul sito Viola, Instagram e TikTok Avrete appunto uno snowman con il vostro nome E il vincitore potrà vincere uno di questi fantastici premi Quindi ragazzi, let's go e andiamo subito con la reaction Ok 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 Ti dice il gioco come deve morire Marono Dai 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 Giorgio Guarda dalla lava, Giorgio Giorgio scusate, non ci credo Guarda Ha già vinto Quindi adesso Dream ha due minuti per morire in quel modo Sennò no, sono un perd Ok Ho visto, l'ha visto, l'ha trovata L'ha visto, l'ha visto, l'ha trovata In teoria possono ammazzarsi a vicenda Sì, però tipo A questo punto diventa quasi una main save Forzata Perché Giorgio potrebbe dire No, tu non muori E quindi vinco io Perché lui il punto l'ha fatto Com'è che deve morire Dream? Nella lava, ha trovato un blacksmith Quindi, ok Ah, si butta Easy Dai 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 Aspetta anche quel mezzo secondo Aspetta quel mezzo secondo anche Adesso deve cadere dall'alto Praticamente deve buttarsi dall'alto Il primo che si butta dall'alto vince Ah beh, ma lui c'ha già 53 blocchi, Giorgio Eh, ma Giorgio mi sa che ce l'ha diverso Perché ogni player ce l'ha diverso Easy Ah Deve farsi esplodere Da un creeper Oh, guarda, non ci credo Guarda, guarda Guarda che fortuna Scusa, se lui prende un attimo poco fuoco E si fa scoppiare dal creeper vince, no? Sì, però Lui mi sa che vuole aspettare Per prendere delle risorse Ah, ok, ok Ah, perché tanto c'è la keep inventory Eh, sì Ecco Bam GG GG Deve morire dal fuoco Il fuoco, Giorgio invece Dream Le sweet berries Oh mio Dio Ed è qui di trovare le bacche È carino comunque ciurma come modalità questa qua Che ne pensate? È bellino Ah beh, c'è qua Giorgio sta Cioè, è il primo video dove Giorgio sta flexando un sacco di roba Easy, easy Guarda, guarda, guarda Perché sto trovando modi facili È carina, è carina Però Cioè, non la vedo tanto Movimentata come roba, capito? Eh, sembra tantissimo Non dico quasi una dead swap Però Per lì Come fa a non trovare le bacche? Ma gliel'ha tolte per forza Giorgio? Sì, prima gliel'ha tolte un bacche Ecco, 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 ecco Eccolo Eh, dovrebbe spaccare il coso Il, vabbè Il blocco l'altro Perché Sì, sì, sì 10, 9 Oh Non ci c'è Sì, sì, sì Ma io, 7 secondi mancava Oh mio Dio Cioè, lo so se deve fare? Eh, sì Come fa a trovare le entità? E deve, deve Ficcare tutte le entità? Lo sai come può fare? Allora, il metodo più facile È che o armor stand O kart O Barche Eh, ma i kart Allora, sono tipo 21 entità I kart vuol dire Tu devi avere uno stack Due stack di Di ferro Di ferro Eh, però con le barche è un po' più facile Con le barche, sì Però No Perché è sempre in un blocco Ok Sì Le barche, non le fichi tutti in un blocco Oppure sì Con il dispenser E infatti sta a fare il dispenser Hai visto? Sto facendo i metodi Guarda, sta facendo i metodi con il dispenser E sì, sì Ce la può fare, ce la può fare Eh, a posto Ce l'ha fatta A posto Ok 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 GG 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 Wow 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 Che stanno tantissimo comunque Eh sì Per sicurezza facciamone anche altre Sì, è stato Che cosa che non Non prendono danno No, in realtà Ecco, vai BAMMA Cioè Oh mio Dio Ma c'è È super brain come roba Allora, raga, c'è una cosa Se volete che io Ambecoi facciamo questa roba Ok Sapete già cosa fare, insomma Sapete già cosa fare Allora, finora nessuno dei due ha perso comunque Quindi sì Deve fare un letto Ah, un letto come puoi morire Nel nether Quindi Dovrà andare nel nether Oh Gesù Eh, infatti guarda già dov'è Guarda, ora fai il portalino tattichino Se sbaglia rido tantissimo Ecco Ma ma che cazzo Ma ho fatto il secchio Ma ho messo la torsione Ma invece l'ha fatta Ma facci contro Ma facci contro che ti one shot Ma dai Ma si butta sul letto Ok Bro Cosa? Deve morire con un baby hoglin Baby hoglin Vabbè c'è il portale del nether c'è là Ma il baby hoglin non ti fa manco male Ti rompe le palle e basta Ok, sulla lava Cioè, vabbè dai Se lo missava mi aspetta un altro Ma fa prima che pigliava danno Eh, infatti lo vedi l'armatura Ok Vabbè, tanto, tanto Che cacchio Ma l'armatura Non gli ha rotto la stringa No, penso si Si è cancellata dopo Eccolo Dai, dai, dai Se gli dà una botta è finita Ok Ha messato la freccia a quell'altro Vai, vai, vai Vai C'ha paura Perché stanno i fumi Vai, vai Vai Ma fa mezzo cuore Si, appunto Oh GG Oh, ultimi 10 secondi Come dai Il vuoto Vabbè Duro du du 5 minuti si va nel land Duro du du Duro du du E siamo nel land Vabbè, insomma Che culo Vabbè, dai Lo sai come può fare Con la barca Si ficca su Si ficca in mezzo a due blocchi Di bedrock Ok, fa Tade giù Credo No, questo è curiosissimo Deve provare la qualsiasi Si Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Allora, o questo qui round finisce 0 a 0 O fa la pazzia Non mi interi che fai il trick con la trapdoor Ce l'ha fatta, George Ah, perché giustamente tu lo fai sopra l'end C'è il nether Non è così Non è verso il basso il pistone Finirà male Non ci credo Dai 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 Ce l'ha fatta E poi gli serviva proprio quello spot giusto Si Adesso George ha preso il void Ragazzi, fai di gg No, è impossibile che riesci a trovare, ragazzi, il coso Il buco dove c'è stato prima No, è impossibile C'è un blocco di cobblestone? Dream com'è che deve morire? Nel vu Lo fa il portale, quindi nel nether con qualcuno Nel nether Vabbè Ah, deve morire da una fireball Oh 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 L'ha trovato Non ci credo 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 Non ci credo, regà Non ci credo Non ci credo Non ci credo Lui ce l'ha fatta Oh Oh mio Dio L'ha trovato L'ha trovato Uno No A destra Dove è a destra? Si è bloccato Oh Oh no Eccolo Oh mio Dio Ma non ci credo Ma non ci credo Cosa? Deve morire da un fulmine Deve morire da un fulmine Perché the dream sta piovendo Se sono vicini Ma in che senso? Perché hai iniziato a piovere adesso? Ma perché da uno piove e dall'altro no? Ah forse perché il plugin Mette che piove Per te però Ah perché naturalmente si puoi avere il fulmine Sennò naturalmente ti dice Chissà Come fai? Deve fare la rod Oh comunque è veramente carino sto coso Sto format No guarda ci muore la clipper Adesso ci muore Hai 10 log Ce la puoi fare Si Ha fatto il coso Vabbè dai dai E sino con la rod si ha voglia No non è nel senso È così facile Ce l'ha fatto Ce l'ha fatto Però non mi sono affelato eh Oh no È morto Ora lui è morto Qui romperà le scatole Oh Ok uno Uno Quante erano tre In teoria Eh basta che si mette sopra la rod Pia pieno Dai Oh no C'è un altro 10 Oh Oh mio dio Ma dai Vabbè easy Easy Oh Easy Eh ma George Oh Mi lo ammazza Mi spegne il fuoco Yes Ma a quel punto uccidilo È meglio Ma No scusami Ma gli ha dato un pugno Non È perché forse Ha fatto contrasto con danno del fuoco No ora trovo la George È finita per George È finita per George raga Dai ce l'ha fatta pure George Boom Vabbè devi morire dall'altine C'è l'altine Easy No Kill me Kill me Oh no Kill me My task is to die a player Wait I'm just not gonna call you È tra mia tasca e morire da un player Ciao Thank you for getting me low George You're an accident You're an accident L'ha doppiamente trollato Poveretto Eh mi sa che non ce la fa raga Non ce la fa Non è finita mi sa Oh oh Menant Menant Non la troverà mai l'outpost Eh Ma se E se finisce tipo pareggio che succede? Lol È finita Mi sa proprio di sì È dieci Nove Un baby zombie Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Let's go GG Let's go GG GG Veramente Bye George Mamma mia Comunque ragazzi carinissimo Molto carino Molto carino Oh